Torniamo alla nostra degustazione, amici di Sommelier Friend sono con Massimiliano Gatti, siamo all'azienda La Fioca e naturalmente siamo arrivati ad assaggiare il prodotto di punta. Possiamo definirlo così? Ma diciamo che questo è il prodotto di base. Di base. Il nuvaggio l'80% circa del Chardonnay e un 20% di vino bianco. È una sboccatura dall'estate 2009 quindi è abbastanza recente ed è pronto, si può dire, per la degustazione. Anche qui i profumi sono veramente belli. Mentre bevi poi c'è questo ritorno dei profumi che ti pervade tutto l'impianto olfattivo ed è molto bello trovarsi di fronte a un bruit così perché non è aggressivo. Ha una sua bella evoluzione anche come bollicine in bocca eccetera. Anche questo io lo vedrei come tutto pasto perché... Sicuramente non dimentichiamo che ha un invecchiamento di 36 mesi. Poi questo bollicino, questo perlage è veramente bello per poi trovare in bocca le stesse sensazioni se non amplificate. Complimenti, è un lavoro fatto molto bene, la qualità sicuramente tanto in vigna tanto è anche in cantina.